Conta circa 350 dipendenti invernali a cui si aggiungono decine di stagionali estivi e copre ormai tutta la Versilia, tranne Viareggio. Ma nonostante la conferma del servizio a Camaiore, Ersu guarda il 2020 con timori verso Massarosa. Secondo il presidente Alberto Ramacciotti, arrivato nel 2009, il dissesto finanziario appena dichiarato potrebbe minacciare anche i conti della società dei rifiuti. La questione di sesto Massarosa pesa tanto, non poco, perché se veramente dovessero verificarsi le ipotesi peggiori nelle quali viene chiesto la rinuncia al 60% del credito, sarà veramente dura per noi poter continuare ad andare avanti, non dico al ritmo di oggi, ma anche a un ritmo molto più blando e soprattutto garantendo, come è stato fatto fino ad oggi, sia il pagamento degli stipendi, sia il pagamento dei contributi e anche il pagamento dei fornitori, perché si sta parlando di cifre che vanno oltre il milione di euro a rischio. E quindi diciamo che il 2020 non dovrebbe subire variazioni sostanziali perché anche in caso di dissesto il servizio sarà garantito perché è garantito il finanziamento del servizio. Certo è che l'azienda che aveva le spalle solide e anche riserve accumulate si potrebbe trovare in difficoltà non da poco. Chiuso il braccio di ferro giudiziario tra Viereggio e Camaiore a favore di quest'ultima, torna a figurarsi lo scenario di un'unica società dei rifiuti per tutta la Versilia che vedrebbe Ersu incorporare SEA, una soluzione spinta dal Partito Democratico, come è noto, e sostenuta anche dal numero uno di Ersu. La nostra capacità negoziale in caso di trattative o di altre cose è minata fondamentalmente dalle nostre divisioni e oltretutto l'accorpamento delle aziende consentirebbe di fare anche notevoli risparmi in termini di organizzazione, di mezzi e anche di personale.